Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos. Questa sera torniamo a parlare di musica. Lo facciamo perché aumenta l'interesse da parte dei nostri telespettatori che continuano a scriverci in redazione per trattare questo argomento che tanto affascina ma che qualche volta è un po' difficile da penetrare, può essere anche molto complesso. Questa sera ci occuperemo di un periodo della musica un po' meno noto al pubblico qualche volta e qualche volta anche un po' più complesso da comprendere che è la musica del XX secolo. Lo faremo perché cercheremo di capire che cosa accade dopo Mahler, quello che tanti si sono chiesti, che fine fa la musica dopo i primi venti anni del secolo scorso. Dove sfociano le avanguardie, dove vanno a finire, quali sono poi gli scandali che hanno segnato il secolo scorso. Insomma, tutto questo possiamo farlo grazie anche alla presenza del nostro ospite che io voglio salutare e ringraziare per essere qui. Siamo in compagnia del professore Enzo Restagno, che è il direttore, buonasera professore, è il direttore artistico di Mito, ma soprattutto è uno dei più grandi esperti a livello internazionale di musica e in particolare di musica del Novecento. L'area della musica del Novecento è un percorso affascinantissimo che mi piacerebbe fare con lei, ma io vorrei partire da Mito, questa manifestazione che abbiamo detto è nata, da un'altra manifestazione importante che era Settembre Musica, manifestazione già di grandissima qualità artistica. Che cosa è accaduto poi? Come è nata Mito? Beh, vede, prima quando ascoltavo la vostra presentazione, della quale vi ringrazio, sono lusingato, forse avete perfino un po' esagerato, insomma, mi fa una certa impressione essere sepolto da tutte queste cose. Uno realizza poi, nella vita fa tante cose, una sull'altra, e poi quasi quasi tutto questo costituisce, non dico un peso, insomma, ma un onere, eccetera. Oggi poi questo crea una coscienza, direi, un po' allarmata, di fronte al dilagare delle voci che reclamano la rottamazione. Uno dice quasi quasi, si bisognerebbe togliersi di torno. Adesso però non voglio divagare, vorrei dirle che Mito è nato sette anni fa. È nato da un accordo tra le due città quando la giunta di Torino aveva Sergio Chiamparino come sindaco e la giunta di Milano aveva Letizia Moratti come sindaco, quindi c'erano due giunte diverse, insomma, una giunta di sinistra, come è tradizione ormai molto lunga, Torino e Napoli, Milano, aveva una giunta di destra. Sembrò un'idea veramente brillante, insomma, è vero che io mi sono anche dato un po' da fare per suggerire, insomma, queste cose ad amici, eccetera, amici appassionati di musica che stanno a Milano e che erano i primi interessati, fra i quali il presidente di Mito, Francesco Micheli. Ma, insomma, il suggerimento è stato colto a volo, direi con intelligenza, dai due sindaci che hanno visto in questa un'occasione di collaborazione tra due giunte di segno diverso, cioè perché no, nel segno della cultura, ecco, si possono fare delle cose. Beh, immaginato così sembra semplice, poi di fatto stiamo parlando di due città vicine geograficamente, ma, insomma, culturalmente con le loro identità molto forti, due giunte, come diceva lei, politicamente opposte, due tradizioni diverse, anche delle preoccupazioni, probabilmente, io credo, Torino abbia avuto paura di un ratto, no, di un rapimento, di una manifestazione. Sì, c'era un'onda di timore così, ma non tutti, sa, non tutti, non tutto il pubblico. E anche a Milano, in realtà, io, beh, bisognerebbe distinguere due fronti completamente diversi. Uno è quello della gente, la gente vuol dire la moltitudine di persone intelligenti che vanno ai concerti, che sono migliaia, migliaia e migliaia. L'ultima edizione, quella appena finita, insomma, ha raccolto 136 mila presenze. Sono tante persone, eh. Abbiamo parlato, infatti, con Braccialardi. Poi ci sono, invece, coloro che giudicano le cose diversamente, che non sono la gente comune, e cioè possono essere, non so, amministratori, oppure dei concorrenti, oppure responsabili di altre istituzioni musicali. Beh, tutti coloro che incidono pesantemente, però. Sì, però direi che la risposta del pubblico milanese, che poi alla fine è quella che conta, è stata così straordinaria, fin dall'inizio, così entusiastica, si sono viste delle code interminabili, eccetera. E quindi la cosa ha attecchito bene. In sette anni ha messo delle radici eccellenti a Milano, un mito. Quindi credo che in questo senso, io ne ero convinto, fra l'altro, se non voglio darmi delle arie a cose fatte. Ma lo so, lo so bene. Ma ero convintissimo, avrei scommesso su questo. Perché la formula vincente di Settembre Musica, che è nata a Torino 35-36 anni fa, non ricordo bene, ma comunque la formula vincente è proprio quella, di fare appello alla popolazione, cioè di portare la musica in quei luoghi dove di solito non la si ascolta. Perché, vede, mi lasci dire una cosa, quando uno va a un concerto, oppure al teatro dell'opera, questo è più evidente, i luoghi consacrati dalla musica, dove si ascoltano i concerti, dove vanno gli abbonati e così via, noi non ce ne rendiamo conto perché li frequentiamo da sempre. In realtà esiste un rituale, un rituale che per noi è invisibile, per noi adepti, ma è che per la gente che non ci è mai andata, è un rituale terribilmente intimidente. La gente arriva lì e non sa come muoversi, non sa cosa fare, si sente a disagio, si sente quasi un intruso, guardato dall'alto in basso, perché magari, faccio l'esempio più banale, non so, applaude alla fine del primo movimento di una sinfonia e gli altri lo fulminano con uno sguardo di ghiaccio. Quindi tutto questo, se si riesce a sospendere questo aspetto di rituale severo, per creare invece un clima più festoso, più aperto, più rilassato, ci vogliono dei luoghi diversi, in questo senso vanno benissimo le chiese, vanno bene i chiostri, certe piazzette molto raccolte, luoghi atipici in sostanza, non solo quelli, ma questi sono i luoghi che ti permettono di drenare la gente. Comunque, tutto questo che oggi sembra un'idea, solo un'idea felice, è stato un grande atto di coraggio, perché poteva volgere in un modo, volgere nell'altro, tutto questo non era facile, non era facile scalfire questa mentalità del pubblico, e credo tutte le ritrosie degli amministratori, dei politici, di tutti quelli che dovevano perdere qualcosa, o non sapere se guadagnare qualcosa, cioè insomma, non era facilissimo. Noi abbiamo parlato di Mito, nel periodo in cui Mito è stato a Torino, è venuto qua l'assessore Braccialarghe, lei però non c'era, l'abbiamo recuperata ora, ve l'ha letto da Londra adesso, e quindi abbiamo proprio aspettato che tornasse per parlare di questa manifestazione da un altro punto di vista, perché lì abbiamo parlato dei risultati, dell'affluenza, dei successi, è vero. Però, parlando anche con gli amministratori che hanno seguito questa cosa, qui c'è stato anche Alfieri, che è stato l'assessore alla cultura della città di Torino tanti anni, diceva che colui che ha avuto questa illuminazione, che ha pensato che a un certo punto fosse necessario quest'asse tra le due città, fu proprio lei, e che in realtà qualche timore ci fu all'inizio da parte di tutti, nel senso di perplessità, ecco, di perplessità, chiedessi che cosa poteva succedere, ma io poi mi chiedo, poi bisogna gestirlo però, questo equilibrio, nel senso che le città devono continuare a dialogare, a non paventarsi, si capisce, le giunte cambiano, è difficile, perché c'è sta, ma non grosse difficoltà, non so, qualcuno magari lo ha pensato, qualcuno lo ha bisbigliato, mi hanno anche accusato di alto tradimento, magari, nel senso di dire, come questa è un'eccellenza, non va spartita con nessuno, questa è una sciocchezza, perché invece quando ha in mano una formula forte, associando gli altri, significa moltiplicare le cose, credo che è un consiglio che si potrebbe portare anche in piazza a fare questo, no? Bene, seconda parte di Antropos che questa sera abbiamo dedicato alla musica del Novecento e a Mito, adesso riprendiamo il discorso sul Mito con il professore Stagno, professore, parlavamo della difficoltà o comunque della possibilità di gestire un festival così importante tra due città così importanti come Roma e come Torino e Milano, dove la tradizione musicale tra l'altro ha un grande peso. Però mi piacerebbe entrare anche nel programma artistico di quest'anno, perché quest'anno il Mito ha dedicato, ha fatto degli omaggi a qualche compositore, il più grande, il più grande omaggio che è stato fatto è quello a De Bussini, sembra al più uno, a un compositore che lei ha definito un compositore modernissimo dopo il quale la musica cambiò, tutto cambiò, nulla fu uguale. Che cosa vuol dire? Intanto mi scusi, si festeggiavano i 150 anni della nascita. Beh, guardi, devo dire che lì ho trasgredito un pochino forse quella regola di una impassibile oggettività di chi fa questo lavoro, che non dovrebbe mai mettere forse troppo in evidenza le sue predilezioni. Io lo confesso, ho una passione che dire viscerale è poco nei confronti di De Bussini, è un compositore che ha colpito la mia, non solo la mia fantasia, ma la mia anima, la mia vita e il mio accompagno da tantissimi anni. Quindi ho colto al volo questa occasione, si capisce, per organizzare una serie di concerti, eccetera, anche perché poi sono convinto di quella cosa, non l'ho detta io, io ho semplicemente parafrasato un'autodefinizione. De Bussini era perfettamente consapevole che la musica con lui cambiava, cambiava il modo di pensarla e di comporla. Perché? Che cosa cambia? Beh, io questo lo posso spiegare brevemente anche a chi non sa di musica. Quando noi ascoltiamo una sinfonia, poniamo di Beethoven, di Bramso, di Mahler, eccetera, noi sentiamo, c'è un'architettura in sostanza, quella che si chiama architettura sinfonica e quindi la forma, c'è un tema, c'è un altro tema, ci sono degli sviluppi, eccetera, eccetera. Cioè, c'è una tecnica organizzativa di tutto questo materiale. De Bussini la abolisce proprio con un colpo di spugna, cancella tutto questo. Tutto quello che è stato lo sforzo, diciamo, di 200 anni di architettura musicale viene annientato perché è considerato ormai superato e gioca sulla ripetizione, sulla ripetizione di una stessa frase. Cito un brano che forse molti appassionati di musica conoscono, per esempio, il Prelude la Pré-Midi Danfone, uno ascolta questo e sente un flauto che suona, non si può neanche dire un tema, una specie di arabesco perché è una linea deliziosamente svagata che si muove nell'aria e questo viene ripetuto per nove volte di seguito, naturalmente con delle micro variazioni all'interno, ci sono delle piccolissime lesioni della forma e naturalmente cambiano i piani armonici, ogni volta c'è un piano armonico diverso. Debussy ha scoperto questo mistero della ripetizione che è una delle, direi, delle cose della natura in sostanza, perché la natura è fatta così, infatti la natura entra potentemente nella musica di Debussy come mai era successo prima e non solo nei titoli La Mer, Nocturne o cose di questo genere, ma proprio il vento, l'acqua, la pioggia, questi elementi che sembrano facili ad una banale imitazione in realtà sono difficilissimi, diceva Messiaen che era un grande compositore, trattare questi argomenti è la cosa più difficile che esista in musica, dice io non l'ho mai fatto, mi sono tenuto a qualcosa di più piccolo, più umile, cioè il canto degli uccelli, perché ci voleva un talento enorme e Debussy aveva questo talento di captare questo moto continuo che si ripete apparentemente sempre uguale, ma guardiamo le onde del mare sono, sì, sembrano tutte uguali, ma noi sappiamo benissimo che in realtà ogni onda ha una curva leggermente diversa dalla precedente. Debussy ha captato questo mistero della differenza nella ripetizione e lo ha introdotto nella sua musica. il momento di lesione di forma rende perfettamente quello che volevamo dire. E a Debussy è stata dedicata all'apertura dell'orchestra nazionale francese di ragazzi. L'orchestra nazionale de France è venuta qui a suonare, ha suonato anche a Milano naturalmente, perché, e questa è una cosa che vale la pena di dire, oggi viviamo in un mondo di omologazione, cioè più o meno consumiamo gli stessi prodotti, è un po' tutto uguale, ci vestiamo nello stesso modo a Tokyo a Città del Capo a New York mangiamo più o meno le stesse cose. Rassicurati dagli stessi loghi. E questa omologazione però minaccia di veramente di appiattire il mondo. Nella musica c'è una certa resistenza. Perché questa musica? Dicevo, ieri sera quando parlavamo nella prima parte che moltissime sono le richieste arrivate in redazione quando abbiamo iniziato a occuparci proprio del mondo della musica, proprio di persone che avevano voglia di sentirle raccontare proprio da lei che in questo campo è più esperto questo secolo che a un tratto è diventato più difficile. Ognuno di noi per più o meno ha incontrato o conosce o ha sentito la musica di Mozart poi di Beethoven poi di Verdi poi è arrivata a male poi dopo la musica diventa complessa succede qualche cosa. Che cosa succede nella musica del XX secolo? Io le potrei rispondere con le parole di un grande compositore uno di quelli difficili del Novecento con Alban Berg che è stato uno dei due grandi allievi di Schoenberg lui ha scritto un bellissimo articolo che è tradotto in italiano da molti anni che si intitola Perché la musica di Schoenberg è così difficile da capire è un articolo complesso però nella buona sostanza quella che conta è la conclusione in cui lui dice che il pubblico è abituato ad ascoltare il repertorio come diceva lei un momento fa che vuol dire Haydn, Mozart, Beethoven Brahms anche Mahler magari ma questa abitudine comporta dopo tanto tanto tempo qualche cosa di inerziale c'è una specie di inerzia per cui è difficile interromperla ecco e naturalmente la complessità che è la caratteristica fondamentale della musica di Schoenberg ma anche di tanti altri autori del novecento richiede non dico una frattura ma comunque un impegno diverso e chi è abituato bene alla calma eccetera tendenzialmente rifiuta di farlo ecco si preferisce perseverare che cosa accade però perché la musica diventa più difficile perché è molto più complessa perché si direi si addensano più episodi viene meno la ripetizione per esempio delle frasi eccetera e questo questo rende le cose più difficili ecco molto più difficili come diceva lei probabilmente c'era un'abitudine ad ascoltare che sa l'iterazione dei temi insomma uno sente pensi non so la sinfonia in sol minore di Mozart uno sente questo tema e cosa lo sente lo risente sembra quasi aiutare l'ascolto te lo godi tranquillamente serenamente poi in realtà è molto più complesso di così se uno volesse scendere in profondità però invece quando senti una musica contemporanea soprattutto se si tratta di quelle che vengono da Vienna cioè dalla doticafonia ma anche di altri autori che vengono dopo e beh c'è una complessità si richiede direi che nasce un diverso rapporto con il tempo la musica è molto compressa ha un peso specifico diverso proprio più pesante non nel senso dispregiativo è proprio più densa ha un peso specifico molto più alto della musica tradizionale e questo può riuscire e di solito riesce un po' sconcertante quindi diventa musica dodecafonica musica tonale musica a cui probabilmente non siamo ancora abituati ma lei sostiene che quindi l'ascolto sia anche una questione di tempo cioè noi tra cento anni affluiremo di questa musica in maniera facilissima semplicissima in parte sì il processo è lento però è incoraggiante se uno conosce i fatti storicamente per esempio la sinfonia da camera opera 9 di Schoenberg quando fu eseguita per la prima volta nel 1906 e altre due o tre volte negli anni immediatamente successivi fu uno scandalo terribile la gente si mise a ridere a gridare a schiamazzare litigare si presero a ceffoni perfino eccetera oggi invece la sinfonia opera 9 si frie da camera opera 9 di Schoenberg è una cosa pacifica si ascolta volentieri tranquillamente è vero che non è delle cose più difficili ma allora diede scandalo anche la saga della primavera diede scandalo la prima volta oggi tutto sommato credo che sia abbastanza digeribile un po' per tutti poi naturalmente ci sono altre musiche anche più difficili senta professore però lei mi ha condotto proprio mi ci ha portato proprio lei ha introdotto un argomento io volevo così levemente sfiorare ma a questo punto l'ha chiamato abbiamo lei ha accennato allo scandalo lo scandalo in musica e al fatto che oggi come oggi sia molto difficile che ci si scandalizzi in musica lei invece sta parlando di episodi che allora furono scandali storici appunto il debutto del sacro di print home di Stravinsky o altri eventi però questo argomento lei l'ha trattato se non sbaglio io non so se si può dire ma lei l'ha trattato o lo sta trattando in un libro che sta scrivendo ma si può dire come mi fa un po' di pubblicità ma lei lo sta scrivendo di questo la ringrazio sì ma il libro è quasi finito uscirà l'anno prossimo meglio ora è sapere però perché invece è incentrato proprio su questi su questo periodo questi rapporti e questi autori sì sì se posso dare un'anticipazione al mio libro si riferisce proprio a Stravinsky e Schoenberg considerati un po' come i due poli della musica del novecento e il caso ha voluto che entrambi siano stati gli autori dei due maggiori scandali musicali del novecento e forse anche della storia della musica perché sul scandalo suscitato dalla Sagra della Primavera sappiamo tante cose se ne parla molto le cronache i libri ci sono delle istantanee bellissime come quella di Cocteau che parla di un palco con la contessa di Portales e il diadema sghimbescio tutta rossa in faccia arrabbiata ma come in 60 anni è la prima volta che mi si manca di rispetto quindi ci sono delle descrizioni molto vive meno noto ma perché insomma è in lingua tedesca e quelle cose lì è lo scandalo che si produsse un paio di mesi prima al Musikverein di Vienna quella bella sala che noi conosciamo oggi come la sala del concerto di Capodanno la vediamo tutti alla televisione e ce la godiamo perché si sentono le musiche di Strauss quindi pensiamo che sia un luogo di delizie pacifiche invece in quella sera del 1913 fu il teatro proprio di conflitti micidiali che finirono in ceffoni con un seguito giudiziario addirittura quindi molto divertente non ho il tempo di raccontarvi tutto ciò però allora ci si scandalizzava per le cose si potrebbe anche pensare perché eravamo nel 1913 in fondo eravamo ancora nella Belle Epoque ma stava morendo la Belle Epoque la gente intuiva che nell'aria c'erano dei cambiamenti che avrebbero sconvolto la vita e questa musica lo faceva pensare direi in maniera inquietante seconda parte di Antropos che abbiamo anche questa sera dedicato alla musica siamo in compagnia del professore Stagno che ci stava raccontando e mi è dispiaciuto interrompere proprio con un certo entusiasmo anche direi le necessità dicevamo della conoscenza in musica partivamo dal discorso sullo scandalo discorso sullo scandalo che lei ha affrontato in questo libro su cui io tornerei un secondo professore perché è il libro che sta scrivendo adesso tanto ormai l'ho tirato fuori questo argomento sono curiosa stiamo parlando proprio di questo periodo e di questi autori lei sta scrivendo un libro incentrato sui rapporti tra Stravinsky e Schoenberg definiti i rapporti definiti una impossibile amicizia sì è così perché in realtà si sono incontrati nella loro vita una volta sola fisicamente proprio in circostanze straordinarie a Berlino nel 1912 quando hanno fatto alla Krolloper Petrushka naturalmente Diaghilev che era un grande maestro di cerimonia ha invitato tutte le persone importanti fra queste Schoenberg e così si sono conosciuti i presidenti sapevano ovviamente chi era l'uno dell'altro ma caro collega come va eccetera questo fu anche possibile perché Stravinsky parlava come una seconda lingua madre il tedesco aveva avuto una balia tedesca prussiana fino da bambino a Pietroburgo quindi poterano parlare e Schoenberg fu affascinato da Petrushka per tutta la vita disse sempre che Petrushka era un capolavoro delle altre cose diceva magari molto peggio ma di quello sì e gli disse in quell'occasione ma caro collega se lei rimane a Berlino qualche giorno e farebbe piacere che lei venisse si replica un mio nuovo lavoro che si chiama Pierrot Luner e Stravinsky ma sì ma con grande piacere vengo volentierissimo e ci andò di fatti e ne rimase così entusiasta l'ecola possiamo leggere nelle lettere che scrisse eccetera di qua di là i colleghi e così via questo incontro che prometteva una vera amicizia in realtà fu il primo e l'unico della loro vita anche se poi continuarono a stare vicini soprattutto negli anni americani quando entrambi erano immigrati stavano tutti e due a Hollywood a come si dice oggi a walking distance stavano a sette miglia una dall'altra però non si incontravano mai e stiamo parlando di due personalità di due grandissimi personaggi che si sono sempre confrontati che avevano un seguito enorme nel mondo nella stessa America in California eccetera eccetera però si seguivano a distanza sono convinto si stimavano anche nel fondo però insomma c'era questa sostanziale differenza sono naturalmente non gli unici due grandissimi ma certamente i due pilastri insomma della cultura musicale del novecento uno forse un pochino più cattivante parlo di Stravinsky l'altro un po' più ermetico un po' più arduo indubbiamente affascinanti tutti e due ma sai il vero problema è quello che in fondo dicevo prima con una foga eccessiva forse un po' parlavo quasi come un savonarola dicendo la musica è cultura ma certo che è cultura perché bisogna sapere conoscere bisogna andare nel profondo la conoscenza aiuta a capire sì ma non parlo di conoscenza vede come conoscenza della musica in senso tecnico perché questo equivalrebbe a dire quella battuta un po' idiota brillantemente riferita da Woodhouse che le lampadine sono solo per gli elettricisti no la musica è per tutti ci mancherebbe altro sarebbe uno strazio ognuno di noi però dovrebbe sentire dentro di sé un impulso formidabile per la conoscenza per conoscere il bello ma scusi se una cosa realmente ci piace noi desideriamo conoscerla in tutti i modi possibili e immaginabili e questo accade a cominciare dalle persone insomma le persone sono curiose di sé i bambini se sono curiosi di un giocattolo lo vogliono smontare e noi dovremmo fare un po' lo stesso con la musica ed è una cosa di cui trattando di musica noi ogni tanto lo facciamo ci siamo occupati anche di altri ambiti artistici ma di musica abbiamo parlato abbastanza o abbiamo cercato di parlare abbastanza una delle cose che però forse andrebbe stimolata andrebbe migliorata è anche un meccanismo di avvicinamento alla musica questo probabilmente riguarda anche le scuole gli insegnamenti la difficoltà di avvicinare la musica quando si è grandi è una difficoltà ben diversa invece dall'avvicinarsi da bambini questa è una cosa che abbiamo affrontato tante volte in studio ne abbiamo parlato in diversi contesti quella per esempio di fare un festival è un modo per aprire la musica più pubblici però forse si potrebbe far qualcosa a livello di formazione perché le persone incontrino prima la musica non se ne sentano estranei fino all'incidente per cui non so prima o poi nella vita si rimane folgorati da un concerto forse bisognerebbe ma si naturalmente guardi proprio lo Schoenberg che dicevo prima che era uno che faceva la musica veramente difficile però era un uomo di grandissima intelligenza ed era anche piuttosto orgoglioso della civiltà dalla quale proveniva cioè quella diciamo austro tedesca diceva che quelli che hanno fatto la grandezza musicale della Germania e dell'Austria sono stati i maestri di scuola i maestri di scuola scuola elementari ben inteso che fino all'età proprio della più tenera infanzia educavano i bambini alla musica fra questi maestri figura perfino un personaggio come Franz Schubert insomma noi siamo venuti a pensare che la musica non faccia parte degli insegnamenti scolastici si è vero noi ci lamentiamo di questo ed abbiamo ragione però viviamo in un'epoca così difficile per cui questa superiorità questo primato che una volta indiscutibilmente aveva la nazione di lingua tedesca si sta un po' perdendo ecco nell'era del web questo funziona meno